merda quanti i miei premi da spacchettare natale si sta avvicinando ragazzi ciao a tutti maccheroni ben ritrovati e ben ritrovate sul mio canale io sono sempre bota e questo è sempre mac arena un breve video per andare a vedere quali sono i premi sbloccati con gli obiettivi della fase 2 abbiamo visto come la fase 1 richiedesse di giocare molto semplicemente 50 battaglie gli obiettivi erano di una banalità quasi scontata oserei dire la fase 2 non è diversa e di conseguenza ci aspettiamo la stessa cosa fase 3 e fase 4 io ho disputato in pochi forse in 24 ore le 50 partite necessarie a completare tutti gli obiettivi della fase 2 andiamo a vedere quali sono i premi che mi spettano questi che vedete già col check mark dei primi otto livelli sono quelli scusate i primi nove livelli sono quelli della fase 1 e adesso mi aspettano i successivi nove livelli della fase 2 come potete vedere io ho il pass d'oro se vi state chiedendo se vale la pena andate a cercarvi un video che è dedicato a questo argomento sempre sul mio canale ovviamente qualche giorno fa ci sono due tipi di pass d'oro quello da 10 euro quello da 30 e poi c'è il pass d'argento che è gratuito che vi sblocca aperte virgolette solamente i premi della riga superiore quelli che stiamo scorrendo qui adesso in alto mentre in basso ci sono i premi extra sbloccati con appunto le due tipo entrambe le tipologie di pass d'oro ma andategli a vedere il video in questione per capire se ne valga veramente la pena in ogni caso io ce l'ho e andiamo a vedere adesso che cosa mi porta in dote qui abbiamo dei progetti per ora nulla di particolarmente avvincente crediti sblocchiamo un'altra cassa vediamo che cosa mi porta la carta per arc torrent 10 mamma mia bella tu bella bella che sei è bello che sei tu arc 10 meno bello questa skin faccio cosa della serie vaporwave che è il tema di queste skin in omaggio nella prima stagione di questo inedito battle pass uscito poche settimane fa due settimane fa per la precisione alti crediti qua un baule dorato va bello 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 mi regala una carta progetto per la carabinata 10 che posso livellare anche se in realtà ne ho due da 12 quindi in realtà in questo momento non la sto giocando e anche 5 e coin altre carte progetto uh per ares per ares carte progetto sempre molto apprezzate ragazzi come vi dicevo nel video dedicato al battle pass è vero è vero è vero non abbiamo e i coin in palio per ora nel senso che questa prima stagione non ci sono nel frattempo vediamo un'altra skin inguardabile un'altra skin inguardabile queste sono uscite da un asilo nido per bambini speciali un'altra skin inguardabile chiaramente il filone è sempre lo stesso niente di particolare qui cita personalmente non lo gioco ed è tutto ed è tutto ragazzi questi erano i premi per la seconda fase fase 2 quelli che vanno quindi dal al decimo al diciottesimo livello vediamo cosa ci aspetta prossimamente skin per panther e surge un malloppo di crediti maggiore skin per l'arachnos skin per il guardian come potete vedere di questo si tratta non c'è molto altro ma carte progetto e crediti tornano comunque sempre utili non ci sputerei sopra ma su questo mi sono già espresso lungo nel video dedicato fatemi sapere ragazzi cosa avete fatto voi l'avete sbloccato questo gold pass oppure no i premi vi sembrano soddisfacenti possono valere 10 euro i 30 ditemi la vostra andatevi a cercare il video che ho dedicato per sapere cosa ne penso io e per ora vi saluto ragazzi ci vediamo presto nell'arena seguitemi tra panzi anzi scusate prima di lasciarvi volevo approfittare per salutare i supporter che prima mi citavano in chat tutti quelli che in realtà si sono iscritti al canale fatelo anche voi attivate le notifiche mettete like al video commentate per darmi un minimo di supporto per oggi tutto gl hf e alla prossima ciao